in diretta domani sera sul mio canale è 20 e 30 fiorentina crotone non mancate forza vera ragazzi eccoci qua eccoci qua mister viola vi dà il benvenuto al video la vigilia la vigilia di campionato tra fiorentina crotone punti salvezzi salvezza parlato brandelli naturalmente ragazzi come sempre avete visto alla intro vi aspetto domani sera naturalmente 15 minuti prima del fischio d'inizio mister viola sarà in diretta per commentare insieme a voi e vivere le emozioni che devono essere assolutamente inevitabilmente tu mettete tutto quello che finisce con mente a tinta e viola perché domani ragazzi ci giochiamo punto importante l'ha detto anche cesare frandelli quindi domani vi aspetto numerosi fiorentina crotone in diretta sul mio canale youtube come fare per non perdere naturalmente la diretta beh molto semplice come sempre intanto tutto iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto condividete il video il link del mio canale con tutti i vostri amici e tifosi viola lasciate un bel like ragazzi per sostenere il canale come sempre attivate la campanella così vi arrivano le notifiche seguitemi su instagram e facebook naturalmente vi lascio il link in descrizione dei miei shop online dove trovate tanto merchandising a tinta e viola bando alle ciance ragazzi ha parlato brandelli ha parlato anche molto tardi brandelli insomma rispetto al solito ha parlato in serata brandelli per aprire un po le danze di quello che è fiorentina crotone naturalmente la domanda principale è come si fa ripartire dopo un 6 a 0 brandelli ha detto ripartiremo perché non ci dobbiamo far condizionare da questo 6 a 0 ragazzi hanno voglia di rivincita vogliono subito giocare insomma sarebbe stato meglio giocare subito io ho chiesto scusa ai tifosi anche se ci sta in una stagione una partita così strana però sono stato orgoglioso dei miei calciatori per 35 minuti però mi hanno preso un po troppo alla lettera cioè la serie tutti in avanti non difendiamo quindi la un po così raggirata brandelli in questa maniera nel senso siamo stati troppo offensivi però è giusto anche avere gli equilibri attenzione perché sulla formazione ci sono tante indicazioni innanzitutto il riberi sapete che in settimana si è parlato del caso riberi che sembra insomma che a fine stagione lascerà a firenze ma molti quotidiani molte addette al lavoro hanno detto riberi è il problema perché non c'è più siamo troppo dipendenti se lui non gira la squadra non gira ora il problema è mettere riberi in campo no 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 io non le accetto il riberi non può essere un problema e cagli con non può essere un problema ragazzi cioè i grandi calciatori non possono essere problemi nelle squadre punto e basta smettiamo anche di pensare il pensionato qua e pensa no sono campioni che ovviamente devono essere messi anche in condizione di giocare a certi livelli ok quindi riberi ha sempre abbracciato il progetto viola sempre c'è sempre messo la faccia e nonostante l'età c'è sempre messo il cuore in campo ok quindi ha parlato in settimana con brandelli si sono chiariti probabilmente anche riberi gli avrà detto determinate cose che in campo si gioca con delle persone che non hanno idea di come gioca a pallone quindi io mi trovo un attimino isolato probabilmente gli avrà detto questo quindi brandelli non ha aperto a un ritorno a un 352 ha detto non è tanto abbandonare il modulo visto con il napoli ma più che altro è cercare di mettere quei valori in campo e quelle idee in campo che naturalmente ci deve essere la fase offensiva ma anche fase difensiva ci deve essere la fase offensiva ma ci deve essere anche la fase di copertura e ci deve essere naturalmente dialogo tra un centrocampo una difesa come il dialogo tra un centrocampo e un attacco cioè non è che viviamo a ondate tutti in avanti e dietro rimane il bischero naturalmente come sempre i senatori da riberia pezzella e compagnia cantante tutti vogliono ripartire dopo un 6 a 0 e questo è più che ovvio che il crotone arriverà arriverà un crotone che naturalmente non viene a firenze a fare la partitella stiamo tutti dietro perché ci sta paura no perché arriva dalla bellissima vittoria contro un benevento che sta giocando veramente un bel campionato per diciamo la dimensione che è il benevento ha vinto 4-1 il crotone vincendo anche abbastanza meditatamente quindi vero è un crotone agguerrito la classifica fa paura a tutte e due le squadre avete visto la mia copertina e due tecnici con la classifica in mezzo bene là ci sono i punti salvezza ragazzi domani ci sono i punti salvezza perché il crotone qualora facesse un miracolo o comunque una grandissima partita riuscisse a vincere la fiorentina ragazzi va a 15 punti e a questo punto si cambierebbe totalmente nuovamente la classifica invece la fiorentina riuscendo a vincere cosa che noi fiorentini ci aspettiamo e ci auguriamo ma soprattutto ci aspettiamo perché domani non esiste risultato diverso la fiorentina andrebbe a 21 punti quei famosi 21 punti che io ho sempre detto ormai da un mese a questa parte che sarebbe quel giro di boa utile per sperare una salvezza un pochino più vicina sapete perfettamente che il calciomercato si sta muovendo a me mi viene da ridere perché oggi ho letto che la fiorentina è pronta a prendere un altro portiere un 2003 se non mi sbaglio che si chiama andov insomma ci sono tante squadre dicono che tutti sono un fenomeno cioè a me mi viene da ridere perché dopo aver preso malè che per il prossimo anno a giugno perché però rimane lì e ne parleremo aver preso cocorino le ha parlato anche prendelli dice ci sarà tempo che parla con corina aspettiamo il viso dei medici e la firma quindi ancora non è un nostro calciatore però ci sarà tempo ma il problema grosso è che noi si va a cercare un portiere cioè noi ci sa drongoschi che è titolare terracciano è un buonissimo numero 12 ci sa ancora la font che non si è capito se rientra o meno che si va a fare ci sa bravo ci sa un botto di portieri che si va a pigliare noi un altro portiere ma non è forse meglio cercare qualcuno che serva ora io ragazzi roba pazzi pulgar non esce più perché su torreira non si muove per gennaio pulgar lo vuole il torino lo vuole il calcio ma adesso la fiorentina è presa con le spalle al muro quindi probabilmente si rimane così ragazzi a meno che veramente il colpo last minute sul papu attenzione perché ci stanno provando tutte le squadre perché hanno hanno usato il fatto che il papu vuole rimanere in italia vuole una grande squadra ma l'atalanta non lo darà la grande squadra quindi tutte le altre squadre si stanno muovendo per il papu attenzione è arrivata l'offerta dal qatar ha detto no io voglio rimanere in europa e voglio rimanere in italia per conquistarmi la coppa america insomma quindi anche sul papu poi ne parleremo però io domani ragazzi mi aspetto una squadra che sia offensiva ma non non scoperta in difesa mi aspetto una squadra intelligente ma spavalda mi aspetto una squadra che scenda in campo e ci metta il cuore ci metta l'anima ci metta la voglia di portare a casa tre punte di ripartire e pranelli ha detto ribelli ci farà vincere la partita a me che ci fa vincere la partita non me ne frega più niente a me basta vincere ok non c'è da ragionare prendiamo un gol in meno degli avversari ma facciamo un gol in più degli avversari ovviamente se non ne prendiamo anche meglio però ovviamente mi aspetto naturalmente io io ho dei dubbi che si ripartirà con la formazione di napoli siamo troppo offensivi a centrocampo non ti puoi permettere di usare castrovilli mezzala in coppia con amarabat e usare i due i due terzini in centrocampo o tu giochi con un 4 3 2 1 allora è già diverso perché tu puoi mettere anche un regista basso vertice basso in un pulgar davanti alla difesa con castrovilli amarabat i due terzini originali che vanno a fare i quattro difensori con pezzella milenkovic quarta quello che è però non ti puoi completamente spaccare la difesa così buttando tutti in avanti quindi ci vuole copertura io sinceramente sulla destra ci metterei caceres perché mi dà un pochino più di copertura e anche un pochino più di esperienze rispetto a un venuti che onestamente con napoli ha fatto abbastanza pena però ci sta insomma contro il napoli insomma noi si è preso dei gol a babbo morto insomma un tiro del napoli un gol un secondo tiro un gol cioè abbiamo non abbiamo minimamente retto sicuramente domani mi aspetto una difesa che regga ma mi aspetto anche un attacco che segni ok che si torna a segnare quindi se brandelli giocasse con il 4 3 2 1 altra formazione tanto ormai se ne provai 28 di formazione non si è azzeccato ancora quella giusta si potrebbe ancora pensare di avere liberi caglie con e vlau c'è davanti però con un centrocampo con un regista ok potrebbe farlo anche buona avventura anche se brandello preferisce con gli inserimenti io però onestamente proverei a mettere pulle con castrovilli e amarabat e al centrocampo è una difesa con i due terzini originali da una parte bilaghi da una parte casas che nell'eventualità può cambiare questa formazione trasformandosi in un 352 perché casas ti va a fare il terzo in una difesa 3 quindi vedete come ci sono varie soluzioni da provare in campo basta soltanto aver voglia di metterle ok tutto qua in settimana si è lavorato sapete la florentina da ritira un giorno in anticipo quindi per stare insieme per creare gruppo insomma commesso appalleggiato con blaovic tutto quello che volete ragazzi però adesso bisogna appuntare al sodo cioè c'è poco da a chiacchierare poco da palleggiare siamo contenti ci fa sorridere vede il presidente che finalmente fa insomma cerca di portare anche un po di serenità in quest'ambiente viola che di serenità si respira veramente poca lascio perdere la questione stadio non mi interessa in questo momento se ne parlerà a fine anno perché adesso è importante concentrarsi sul campo ragazzi tre punti fondamentali con il crotone non ci deve essere altro risultato ditemi la vostra nei commenti cosa pensate iscrivetevi condividete vi aspetto domani sera mi raccomando o mancate ci siamo fiorentina crotona crotone 15 metri prima dell'inizio della partita viviamola insieme ragazzi tifando forza viola ragazzi a domani o mancate sempre forza viola